Perché ha chiesto aiuto ai supereroi per spiegare la fisica? Sicuramente sembrerà strano ai partecipanti a questa conferenza, però molti miei studenti in America trovano la fisica noiosa e soprattutto la temono perché hanno paura di non capire e per questo la ignorano, non ti ascoltano. Io ho scoperto invece che se si riesce a raccontare la fisica immergendola nell'avventura di Superman e di Spider-Man, le persone ti ascoltano e soprattutto sono in grado di ricordare i concetti scientifici che stai trasmettendo loro. Dal suo primo seminario in cui ha unito fisica e supereroi nel 2001 sono passati diversi anni e moltissimi studenti. Anche oggi nel 2017 i supereroi continuano a esercitare lo stesso fascino. Gli studenti reagiscono in modo molto differente ora rispetto a come reagivano quando iniziai. Il primo seminario lo diedi nel 2000, l'unico film che era uscito sui supereroi era X-Men, il primo corso prima del film di Spider-Man. Adesso ogni anno escono 4 o 5 film sui supereroi e gli studenti non si rendono neanche conto che in realtà siano supereroi dei fumetti, per loro sono supereroi dei film, li sentono molto di più loro ed è molto più facile per loro immedesimarsi e questo ha reso in realtà il mio lavoro molto più semplice rispetto all'inizio. Che dimensioni ha raggiunto la sua collezione di fumetti? La mia collezione di fumetti o come mia moglie la chiama il costante pericolo di incendio. Diciamo solo che prometto sempre a mia moglie di mettermi lì un giorno e fare una cernita per cercare di buttare via i volumi e le uscite in eccesso. Questo non è ancora successo. Per quanto riguarda l'esatto numero, la scienza non è stata in grado di misurarlo. La scienza non è stata in grado di misurarlo.